Oggi nella Tauro Rotonda di Mille Infrastrutture abbiamo presentato un lavoro in corso che riguarda appunto lo studio del Ponte Monesi di Triora. Un ponte precompresso a cavi postesi che è interessato da un fenomeno interferente di frana. Quindi l'Università di Pisa in collaborazione all'interno del Consorzio Fabre e in collaborazione appunto con la Rete Mille Infrastrutture ha studiato, sta studiando tuttora il fenomeno finalizzato alle valutazioni del livello di sicurezza dell'opera. Ovviamente è necessario all'interno per arrivare alla valutazione del livello di sicurezza è necessario appunto progredire con la conoscenza dell'opera e quindi su più fasi studiare l'opera inserita nel suo contesto. In particolare appunto l'interferenza del fenomeno frana con l'opera è fondamentale per capire gli spostamenti, appunto i movimenti che l'opera ha subito e il cambiamento di condizioni di vincolo dell'opera stessa. Quindi sono in atto appunto il monitoraggio della frana. Sono state eseguite dal punto di vista strutturale delle indagini, delle ispezioni visive per constatare appunto i movimenti della struttura e del ponte e sono state fatte, è stata condotta un'analisi dinamica sperimentale per constatare effettivamente la risposta dinamica del ponte che consentirà appunto la calibrazione del modello numerico per poter fare le verifiche di sicurezza.